Hanno usato sfidare il maltempo che parlava di pioggia per domenica 16 febbraio e sono stati premiati. La prima domenica del carnevale cremasco è andata a gonfie vele e si è svolta in allegria secondo i canoni e i ritmi delle manifestazioni più riuscite. Partita in sordina per quanto riguarda l'affluenza, per il rischio maltempo e per le voci che giravano in città di un probabile annullamento, in realtà il carnevale cremasco si è confermato come sempre all'altezza delle aspettative, capaci di regalare momenti indimenticabili ai bambini e alle famiglie che vi hanno partecipato. Sei tradizionali carri allegorici che hanno sfilato lungo le vie della città, costruiti dai gruppi storici dei Barabet, Pantelù e Amici. Tutti carri realizzati a mano in carta pesta dai volontari, lunghi 18 metri con meccanismo interno che garantisce loro il movimento. Insieme ai carri, come sempre, le varie bande musicali e gruppi folkloristici che hanno animato e rallegrato la manifestazione. Qual è il segreto della longevità di questo carnevale cremasco? Ci sono purtroppo tanti carnevalli che chiudono i battenti per mancanza di risorse. Anche il nostro carnevale non è che navighi nel loro, tuttavia riesce ogni anno ad arricchire anche con nuove iniziative. Sì, sicuramente la manifestazione ha una base di prestigio perché appunto da 28 anni si ripete. C'è da dire che dobbiamo anche ringraziare un comitato organizzatore estremamente tenace, determinato, di norma. Succede che l'indomani, dopo l'ultima sfilata, già ci si trova anche in comune e si comincia a immaginare l'evento dell'anno successivo. A livello di manifestazione le novità più importanti praticamente sono che abbiamo aumentato un po' le dimensioni dei cari. Infatti abbiamo avuto qualche problema in alcuni passaggi perché ci siamo sovradimensionati un pochino e vogliamo raggiungere i carnevali più famosi di noi e ce la stiamo mettendo tutta nel limite del possibile. Noi comunque con la sagaccia dei volontari, con la nostra passione, con tutto l'impegno, magari abbiamo limato da qualche parte, siamo riusciuti a proporre ancora secondo me un carnevale valido e molto importante per la Lombardia e per la provincia. Ad aprire la sfilata, come da tradizione, il carro del gadget col soukette, la maschera tipica cremasca. Nel carro il gadget, un contadino strampalato seduto su un trono, tiene tra le braccia la sua oca. Alle sue spalle la cascina dove si narra che il gadget partisse per arrivare in città a vendere la merce da lui prodotta. Praticamente il continuo arriva, colloca in braccio la Gianetta che è il bastoncino e dal 1955 è il marchio del carnevale cremasco, è la maschera riconosciuta in tutti i carnevali d'Italia. Le hoche fanno le brave, collaborano mica tanto. Collaborano tantissimo, stamattina ero un po' in requiete, adesso si è già un attimino ambientata in piazza, è diventata cittadina anche lei. Grazie a tutti.